Un saluto a voi tutti. Abbiamo scelto il contesto di Villare Calcatti, sede della provincia di Varese, più che altro come luogo simbolico, significativo, perché siamo in compagnia di autorevoli interlocutori che si confrontano e si contrappongono anche quanto a prese di posizione circa la fusione tra i comuni di Ternate e Varano Borghi. Naturalmente il tema interessa molto da vicino gli amministratori e gli abitanti di questi due comuni, bellissimi peraltro. Però di riflesso interessa tutta la provincia di Varese, tutto il nostro territorio, perché questa operazione, questa fusione, se verrà effettivamente ratificata dal referendum ormai alle porte, potrà anche sdoganare altri interventi di questo tipo, quindi altre fusioni. Allora, Lorenzo, venga pure qui. Perché sì? Perché le amministrazioni oramai sono arrivate a una situazione di ingestibilità, perché la burocrazia sta soffocando gli uffici, la mancanza di personale è cronica, l'impossibilità di sostituire il personale o di poterlo sostituire dopo un anno oramai da quello che sono i pensionamenti ha reso le strutture povere di personale. Ci sono più amministratori che personale nei nostri comuni. È inutile dire che Ternate e Varano sono di fatto un'unica entità geografica. Visto dall'alto i confini sono pressoché invisibili. Abbiamo case che hanno il garage a Varano e la casa a Ternate e viceversa. Le comunità sono in simbiosi da sempre, perché la vita sociale si vive fra i due comuni senza nessun tipo di problema. Abbiamo dei servizi in comune, le scuole, per esempio, tutti noi di Ternate abbiamo frequentato le scuole media Varano e da sempre, voglio dire, i cittadini di Ternate e i cittadini di Varano vivono come se fossero un'unica comunità. Abbiamo capito che, almeno in parte, le ragioni del sì. Però, insomma, qui ci sono altrettanto autorevoli interlocutori che invece la pensano diversamente, giusto? Certo che la pensiamo diversamente. È vero che c'è un problema di personale, ma il personale oggi con l'ultima legge finanziaria del 2018 può essere comunque sostituito. Noi a Ternate abbiamo la possibilità di sostituirlo e di continuare comunque a erogare i servizi che abbiamo erogati fino ad oggi. Quando dice che le casse di Ternate stanno bene, significa che quelle di Varano non stanno bene? Stanno bene anche quelle di Varano, stanno meglio quelle di Ternate rispetto a quelle di Varano, devo dire la sincera verità. Però non possiamo non dimenticare che abbiamo comunque due comuni che, nonostante tutto, nonostante che erogano servizi di buona qualità sul territorio, hanno comunque degli avanzi di amministrazione che sono anche avanzi di amministrazione molto significativi. Grazie, molto chiaro. Salvino Fiore, altro fautore del sì, quindi facciamo un po' di ping pong. Avete stimato su per giù i benefici proprio materiali, anche di bassa cucina, che si avrebbero da subito grazie a questa fusione. E poi, è vero che un comune è messo peggio dell'altro e quindi potrebbe danneggiare l'altro? Ma avere un fondo ci sta anche, se hai fatto una buona amministrazione negli anni, è quello che abbiamo fatto noi in questi anni, proprio risanare il comune di Sanapianta. Quindi, avendo dei fondi, è vero, ci sono, ma non sono spendibili poi. Perché se uno ha anche 400 mila euro e poi non ne può spendere solamente 100, dove andiamo? Non ci sono più soldi. Invece, con la fusione, secondo me, si potrebbe fare molte cose, a prescindere dal fattore che entrano soldi o non entrano, più o meno. Però già avere due paesi di 5 mila abitanti, anche a livello, non dico politico, ma, sì, diciamolo, hai già un altro impatto sulla comunità e sugli enti superiori a noi, diciamolo, onestamente. Sì, no, è chiaro anche questo. Dopodiché, penso, chi si oppone alle fusioni lo fa anche per una ragione, diciamo, culturale, che talvolta è fondata, altre volte risulta un po' una visione di campanile antistorica. Sul piano culturale, lei come la pensa? Allora, sul piano culturale mettere insieme delle persone che hanno, come dice lui, da spartire solo territorialmente perché divisi da una provinciale o divisi da una ferrovia non è la cosa migliore per riconoscere quelle antiche memorie, antiche rivalità che le due cittadinanze avevano e ancora oggi hanno. Si trovino altre strade e le strade ci sono. Io posso sposarmi ma posso anche divorziare. Con la legge delle fusioni questo non è possibile. Se io mi sposo devo rimanere incatenato per tutto il resto del tempo. Non è giusto. Queste parole sono interessanti, come dire, siccome è un salto nel buio dal quale non si torna indietro, il comitato del NO dice, vabbè, ma ci si poteva muovere per gradi fondendo qualche servizio, ma non immediatamente i municipi. Allora, partiamo da un discorso che i comuni sotto i 5.000 abitanti sono obbligati a, come dire, lavorare con le unioni dei servizi. Quindi hanno necessità per legge di dover raccorpare i servizi con altri comuni. Situazioni che non funzionano e che lo Stato ha continuato a rimandare. Teniamo conto che mettere assieme due unità che sono di pari importanza, di pari numero di persone, quindi una situazione che è un caso da manuale, Ternate e Varano Borghi. Siamo 2005 Ternate e 2005 Varano. La storia di Varano Borghi è una storia che nasce insieme a quella di Ternate, è un comune che è nato nel 1808 staccandosi da Ternate. Questo si può trovare, come dire, scritto nel vostro comune, quindi, voglio dire, basta andare sul sito del comune e lo si trova. Questa situazione, come dire, lascia spazio per dire che mettersi assieme oggi è una necessità indispensabile per continuare a garantire i servizi ai cittadini, non aumentare la pressione fiscale e soprattutto beneficiare di tutti quegli allentamenti che la legge ha promosso per mettere assieme i piccoli comuni, che sono la possibilità di riassumere il personale, la possibilità di allentare il patto di stabilità, la possibilità di avere dei contributi che sono milioni di euro spalmati in dieci anni, e quindi, vuol dire, garantire per il futuro benessere e prosperità. Perché, dice Balle? Perché Varano, dal catastro teresiano del 1760, era Varano. Napoleone lo aggregò a Ternate nell'805 e lo torse nell'808. Quindi Varano è un comune dal 1760. Io mi riallaccio a quello che dice il sindaco grieco che due comunità di 2500 e 2500 dovrebbero fondersi per dire che due comunità, quindi assimilandolo alla famiglia, due famiglie dovrebbero fondersi per avere migliori cose e cosa succede? Un disastro. Un disastro. Viene fuori, si mette insieme il marito con le mogli, i figli con i figli, un cinema che non finisce più. Quindi mettendo insieme questi due comuni si mette insieme questa porcheria. Vabbè, però io non capisco materialmente quale sarebbe il problema. Cioè, vi mettereste a litigare quando non l'avete fatto fino ad oggi? Sì, sì, perché incomincia dopo a litigare. Quindi, siccome non ci sono delle regole precise su questa fusione, poi si litiga. Vi ringrazio. No, le posizioni mi sembrano abbastanza chiare e delineate. Adesso la parola sta a voi, cioè a voi elettori, perché siete chiamati domenica a votare in questo referendum. Insomma, vinca il migliore, che sia il sì o il no. Grazie agli interlocutori. E a tutti voi per l'attenzione.